Venerdì 7 settembre 2018 Buongiorno dalla redazione di TV6, buongiorno come sempre con la nostra rassegna stampa La rassegna stampa di Mattino 6 per vedere quelli che sono stati i fatti principali che hanno caratterizzato la giornata di ieri attraverso il racconto dei giornali Subito iniziamo la nostra rassegna con le prime pagine dei quotidiani locali Siamo sulla prima del centro edizione di Pescara L'apertura, cadono calcinacci, paura sull'asse Pescara, pezzi di cemento sul parabrezza di un furgone, scatta l'allarme E poi ancora per la politica regionaria e tutti i risultati Nei 5 stelle sfida 2, Marcozzi Cipolletti, aspiranti presidenti L'inchiesta, 20 indagati per il crollo del ponte di Genova Il caso, autostrade, scontro sulle pressioni a Toninelli E andiamo a centro pagina Ricordate il caso del pensionato di Monza che è disperso in Valle dell'Orfento Le ricerche del turista scomparso a Caramanico L'appello della figlia, aiutateci a ritrovare mio padre E poi sempre a Pescara, malattie rare, c'è un centro in pediatria A Montesilvano sulla polemica con i negozianti e nuovo scontro E per il calcio oggi la Serie B può tornare a 22 squadre Perché oggi a mezzogiorno si riunirà a sezioni unite Il collegio di garanzia del CONI per discutere del format della Serie B E di tutta una serie di ricorsi presentati dalle squadre che vogliono il ripescaggio in Serie B Per seguito e minaccia tre studentesse Continuiamo con la prima pagina pescarese del centro Bloccato un 37enne pescarese voleva usare l'acido contro un presunto rivale A piedi pagina, arta al lavoro, alga tossica, al via i controlli Per lievi sulla costa si prevede una regressione del fenomeno Poi stasera a Bologna parte l'Italia di Mancini Caccia ai gol con la Polonia C'è il debutto in questa nuova competizione internazionale La UEFA Nations League E poi dilettanti, Abruzzo, calcio, prima e seconda categoria Domani otto pagine in un inserto dunque del centro Avanti ancora edizione terramana del centro Tordino inquinato da case e aziende La guardia costiera scopre scarichi abusivi a Castellalto Mega multe E poi a centro pagina la fotonotizia con lo sport L'ultima amichevole prima del campionato Teramo passo indietro Noioso 0-0 contro il Pineto E poi i richiami a Torricella Zero colpevoli per lo scuola bussandato a fuoco Sempre a Teramo L'Ipersimpli chiude In 53 perdono il posto A Tortoreto e senza soldi Lo aiutano i vigili urbani E poi la notizia che ha dato l'apertura al centro di Pescara Cadono calcinacci sugli automobilisti Paola sull'asse attrezzato Colpito un furgone La Nassa avvia le verifiche Andiamo ora sulla prima pagina del centro di Chieti Anche in questo caso l'apertura è la stessa che abbiamo visto su Pescara Assi attrezzato Cadono calcinacci Andiamo allora subito sulla fotonotizia a Pretoro No al trasferimento a Isola del Gran Sasso E i dipendenti della Lazzaroni occupano la strada Come vediamo in questo scatto E poi ancora i richiami A Treglio, Sansificio, il Tar dice no ai danni per 7 milioni A Vasto parte dal mare la frana del Belvedere Poi ancora a Lanciano perde la fede Ce l'aveva nello stomaco Sotto la fotonotizia per la politica di primio Io presidente o non mi candido Il sindaco esce allo scoperto E Bacchetta Forza Italia Non corro per consigliere Avanti con l'edizione aquilana del centro Ecco l'apertura Opere pubbliche, cantieri fermi L'Aquila appello di Cicchetti del Lanci Una task force per le pratiche La fotonotizia Siamo ad Avezzano Ultimi lavori in piazza risorgimento Ecco la nuova fontana Simbolo della storia Poi ancora i richiami all'Aquila Sfilata in centro per il raduno degli Alpini A San Benedetto dei Marsi Coltiva droga nell'orto Scatta l'arresto A Sulmona Morrone Ruspe Per fermare L'incubo frana Passiamo ora alla prima pagina Del messaggero Abruzzo Il titolo d'apertura Giulintonaco dal Cavalcavia Pescara nel rivestimento di cemento caduto dal ponte dell'asse attrezzato Colpita un'auto Sicurezza delle infrastrutture Teramo chiede 1,7 miliardi al governo per appaltare i lavori Una serie di richiami sotto la testata A Lanciano perde la fede e si sente male I medici gli trovano l'anello nello stomaco All'Aquila nonnino alpinista Scala in cordata Il Gran Sasso ha 86 anni E poi lo sport Calcio di Serie B Il Pescara blinda la difesa I gol subiti sono troppi Il miglior delfino sempre nelle stagioni con la differenza reti all'attivo Nelle prime quattro gare ufficiali Il reparto bianca-azzurro non ha brillato E poi ancora Di spalla leggiamo Turismo in crescita Report entro settembre Accelerate le procedure per avere un bilancio immediato E programmare nuove stagioni La cronaca Ti sfregio con l'acido Nuovo caso di stalking Spasimante minaccia universitaria E poi sempre in dettaglio medio Scuola inizio difficile al liceo Studenti in aula tra i cantieri Classico d'annunzio a Pescara Spuntano criticità durante la manutenzione Turista scomparso Si scandaglia il fiume a Caramanico E poi in basso L'Aquila il business dell'atletica Con la città dell'Aquila In corsa per ospitare I Masters di atletica leggera Nell'anno 2022 Andiamo sulla prima pagina Della città Il quotidiano della provincia di Teramo Che apre così cifre pazze Per avere ponti sicuri Alla provincia servirebbero 1,7 miliardi di euro Di Sabatino Il presidente dice Mi accontenterei di 113 milioni E poi sotto la testata Inchiesta sul municipio di Castellalto Sindaco interrogato Sul balletto delle agibilità Giulia Nova Ex Sadam Contentino Ai comitati A Teramo Scuole Dalle emergenze Alla programmazione E poi siamo alla fotonotizia Ricostruzione Nemmeno una gru Dopo nove anni Il sindaco Seca Minaccia il commissariamento Il comune di riferimento È quello di Castelli Di Spalla Guardia Costiera Scarichi abusivi Beccato Anche uno stabilimento Di Roseto A Tortoreto Colletta dei vigili Per un senza tetto E poi sotto la fotonotizia Domani sciopero All'Ipersimpli Presidio dopo la chiusura annunciata A fine settembre Poi arte Respirarti Il mondo di Costabi Fa tappa A Giulia Nova Lasciamo i quotidiani locali Ci torneremo tra poco Ora il solito giro La solita panoramica Sulle prime Delle testate nazionali Iniziamo dal Corriere della Sera Fondi Lega Via al sequestro Dal governo Primo sì Alla legge anticorruzione Il carroccio vuole Già correggerla La confisca di 49 milioni Salvini Temete l'ira dei giusti Il premier E dura Per loro E poi ancora Di spalla L'inchiesta di Genova 20 indagati Per il ponte Sapevano Dei rischi E poi In taglio medio Intanto la fotonotizia Coltellato Durante un Comizio Il candidato presidente In Brasile Bolsonaro In gravi condizioni Arrestato Un fan Di Lula E poi ancora Accordo Sull'Ilva Senza i suberi Ora i referendum 10.700 assunzioni E bonus Esodi E poi ancora Sulla prima pagina Di Repubblica Conoscevano I rischi Del ponte Indagati In venti E autostrade I PM Manutenzione Carente L'inchiesta I restauri Decisi Senza aspettare I test Del Politecnico E poi ancora Al centro La fotonotizia I cento giorni Del governo L'era del conte Inesistente Con gaff Universitaria E poi Sempre in taglio medio Il ministro Attacca i giudici Lega Sì al sequestro Dei conti Salvini E gli italiani Sono con me E poi In basso Il caso E le giravolte Dell'esecutivo La commedia Dei vaccini Torna L'autocertificazione Per l'economia Verso la manovra Da 30 miliardi 10 per il reddito Di cittadinanza Siamo sulla prima pagina Della stampa Il caso Lega Il sequestro Dei conti In primo piano Sul quotidiano Torinese La rabbia Di Salvini Contro I PM E un attacco Alla costituzione Fondi del partito Confermati Il sequestro Dei 49 milioni Chiesto dalla procura Parla Il ministro La manovra Sfiore i 30 miliardi 10 per il reddito Di cittadinanza Partenza soft Per la flat tax Intervista Alla presidente Casellati Migranti L'Italia La lasciata sola Ma dobbiamo Essere più Solidali E poi ancora Il leader Dei popolari Sostenuto Da Merkel Weber Candidato P.P.E. A guidare L'Unione Europea Dalla Lega A Orban Un'intesa Con i sovranisti Per la nuova Europa E poi ancora In taglio Medio La fotonotizia Prima il tifone Poi il terremoto Il Giappone In ginocchio E poi ancora Un paio di Richiami Il VAC C'è l'intesa Più posti di lavoro E area risanata Garanzie per 10.700 Lavoratori Fronte autostrade La D Castellucci Noi responsabili Ma non colpevoli Prima pagina Del fatto quotidiano Ponte Morandi In evidenza Genova Ecco I 20 indagati C'è anche La società autostrade Più facile La revoca Della concessione I PM di Genova Li accusano Di omicidio plurimo E Disastro Colposi Tra i nomi Sul registro La D Castellucci Che già nel 2017 Aveva avvertito Sui problemi Di sicurezza Cinelli Attuale Responsabile Della direzione Generale di vigilanza Sulle concessioni Autostradali E il suo predecessore Coletta E poi ancora Il riesame Da torto A Salvini A regione IPM Il tribunale Affonda La Lega Sequestrare Quei 49 milioni Il taglio Medio Il va Di Maio O meglio Di Calenda Nessun esubero E più bonifiche Accordo Mittal Sindacati E Mattarella Soddisfatti Ma il Movimento 5 Stelle Di Taranto Protesta E poi ancora Doppio ruolo Conte Non lascia Il concorso Per fare Il docente A Roma Macchina del fango Paolo Berusconi Pagò milioni Per carte false Sulla Boccassini Siamo sulla prima Del tempo L'Euro Esce Dalla Lega Carroccio Senza soldi I giudici Sequestrano Di tutti I beni Al partito Di tutti i beni Al partito Di Salvini Per la prima volta Nella storia Un movimento politico Viene chiuso Per sentenza E poi ancora La frase In romanesco Nel tempo Di Oscio Con una foto In primo piano Del premier Conte Domani a Palazzo Chigi Non posso venire Perché Devo finire Ripete Perché Perché Un premier Mezzo servizio Conte Vuole il posto All'università Di spalla I grillini Cambiano ancora Idea Ilva e vaccini 5 Stelle In retromarcia Poi più ombre Che luci Nel decreto legge La lotta La corruzione Non si fa Con gli slogan In basso Schedatura Obbligatoria Per entrare In campi d'olio Giro di vite Della Raggi Sugli ingressi In comune Intanto L'amministrazione Grillina Ordina 93 Nuove Auto Blu Prima pagina Che andiamo a vedere È quella Del messaggero Il titolo D'apertura IRPEF Taglio sui redditi Bassi Accordo Sull'Ilva Si riparte Flat tax A tappe Spunta la riduzione Della liquida Più bassa Al 22 Taranto Che al protocollo Niente suberi 10.700 Assunzioni Da Mittal E poi Una serie di richiami Sotto la testata Oggi Italia-Polonia In Nations League Prove d'Europa Con l'inno ufficiale Cantato in latino Anche la mostra di Venezia Piange La scomparsa Della torre Bort Reynolds E poi per la Formula 1 Leclerk In Ferrari Un post di Lapo Anticipa Il cambio Ciao Raikkonen Poi Ancora In taglio Medio La fotonotizia Dopo le polemiche Dei blog Conservatori World Iconagheia Slitta La mostra Ai musei Vaticani Vaccini Si cambia Scuola Basterà L'autocertificazione Il ministro Grillo Si impunta Nuova modifica Dissenzi Nei 5 Stelle I presidi protestano E è caos Di spalla Ancora Lega Confermato il sequestro Di fondi Il piano di Salvini E poi alla sapienza Conte in corsa Per la cattedra Ma poi rinuncia La prima pagina Di Libero I giudici Pugnalano La Lega Via Libera All'sequestro Dei soldi Del carroccio Per un pasticcio Di bossi E bel sito Da 300 mila euro I PM si preparano A requisire 49 milioni Al partito Un atto vampiresco Indegno Di un paese civile Matteo Sono sorridente E incazzato Gli italiani Sono con me All'interno di Libero 8 pagine Speciali Con le firme Di chi sostiene Salvini Al centro pagina La fotonotizia Fate Minoli Presidente della RAI È il più attrezzato Per guidare Il carrozzone Televisivo In basso Studio BCE Le manovre imposte Da Bruxelles Basate su calcoli Errati L'Unione Europea Non sa neanche fare Il conto Della serva Prima pagina Del manifesto Eccola qui Guardia E ladri Salvini Scatenato contro La sentenza Del Tribunale Del Riesame Di Genova Che autorizza Il sequestro Dei beni Della Lega Fino a 49 milioni Due parti In commedia Il ministro Degli interni Detta legge Ordine Ma se tocca a lui Non ci sta Pronto Il nuovo Partito In basso Ilva Accordo Al Mise Tra Mittale Sindacati Arrivano Gli indiani Con zero Esuberi Prima pagina Dell'avvenire Ilva Riaccende Forni E lavoro Intesa Fra Arcelor Mittale Sindacati Favorita Dal ministro Di Maio Salgono A 10.700 I lavoratori Riassunti Anticipati Gli interventi Ambientali E poi In taglio Medio Giustizia Il governo Si arma Contro la corruzione Approvato il DDL Intanto L'importo Della manovra Sale A 35 Miliardi Andiamo Ora Sulla Prima pagina Del mattino Anche in questo Caso Il titolo D'apertura È guadagnato Dalla vicenda Ilva Dalla sua Risoluzione Ilva L'intesa Che salva Il sud Mittal Subito 10.700 Assunti Conservato L'articolo 18 Di Maio Di più Era impossibile Manovra Taglio L'IRPEF Sui redditi Più bassi La Lega Negozi Aperti Solo 8 Domeniche Poi ancora È in Lizza Alla Sapienza Conte Il caso Del concorso Non c'è Conflitto Ma Lascio Di spalla Da spo a vita I corruttori Ira di Salvini Approvato il decreto Il vice premier Diserta Il consiglio E poi Sotto la testata C'è questa intervista esclusiva Del mattino All'ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri Ora allenatore Del Chelsea Sarri Ho scoperto Dell'addio in tv È vero Avevo dei dubbi Ma c'era una clausola Non voluta da me E nei tempi Non è stata rispettata Poi alcuni punti di questa intervista esclusiva Del mattino A Sarri De Laurenti Mi ha dato il Napoli E gli sono grato Voglio bene al figlio Ancelotti Carlo può arrivare Dove io per poco Non sono arrivato E poi Iguain Non ha tradito Il suo problema Era il presidente Andiamo a chiudere Con le testate nazionali Con la prima del Sole 24 Ore Che propone questa intervista esclusiva A Papa Francesco Lavoro e genio creativo Per un nuovo ordine economico Sbaglia Chi pensa che i soldi si fanno con i soldi Il singolo può essere bravo Ma la crescita è sempre risultato Dell'impegno per il bene della comunità Queste le parole di Papa Francesco Nell'intervista al Sole 24 Ore E poi ancora Anche sul Sole Ovviamente La vicenda Ilva Intesa sull'Ilva Si sblocca la vendita Ammita l'assumerà subito 10.700 addetti Assunzioni con l'articolo 18 Resta l'anzianità maturata Dalle 2019 Premi di risultato L'accordo migliore Nelle condizioni peggiori Adesso rilanciamo Taranto Queste le parole Del vicepremier Di Maio E poi AM Ora azienda più forte Boccia di Confindustria Bel segnale per il Paese Lasciamo I quotidiani nazionali Torniamo sui locali Pagina 2 del centro Con ambiente e inquinamento in evidenza Ecco qui Indagine sulla presenza dell'alga tossica Scoperta dall'alta nella zona di Rocca San Giovanni Le seconde analisi di ieri Fanno sperare Nella regressione Del fenomeno Preglievi in tre punti Della costa E poi c'è l'attesa del sindaco Di Rocca San Giovanni Giovanni Di Rito Che dice Ma i primi riscontri Ci fanno essere Ottimisti La scheda tecnica è favorita Dal riscaldamento Può causare febbre e vomito Ovviamente il riferimento è all'alga In basso parco del Gran Sasso Da oggi c'è il festival Con me ne spettacoli teatrali e fotografia Una tre giorni sui migranti Il turismo responsabile Pagina tre Qui lo scenario cambia Perché parliamo di concessioni autostradali Ed è scontro L'errore di Toninelli Sulla lettera di pressioni Accusa strada dei parchi Ma era una vecchia missiva Al ministero di Del Rio La società di A24 e A25 Non gli replica La data sui documenti Però gli dà torto In basso Un'ondata di no Al super ticket che resta Per la CGL Una decisione ingiusta La Will valuterà azioni di protesta Mariani del PD Parla di scelta miope Pagina Abruzzo Pagina 12 Con le regionarie Del Movimento 5 Stelle Ecco qui Movimento 5 Stelle Sfida 2 Tra Marcozzi e Cipolletti La consigliera uscente Il Terramano Candidati alla presidenza Della regione Ecco tutti i vincitori Delle regionarie Sarà Marcozzi A Chieti Marco Cipolletti A Teramo Giorgio Fedele All'Aquila Domenico Pettinari A Pescara E sfida 2 Leggiamo nell'articolo Di Lorenzo Con Antonio Per il candidato Presidente In quota 5 Stelle Sarà Marcozzi E Marco Cipolletti Ci sarà il ballottaggio Dopo che Domenico Pettinari E Giorgio Fedele E gli altri più votati Hanno fatto un passo Inghietro I risultati delle regionarie Sono usciti Al 23 di ieri Poi ancora Al centro Pagina E' meglio Votare Il 23 Dicembre Diventa chiave Il parere Rimasto segreto Dell'ufficio Legislativo Della regione Poi ancora Pagina Anzi Pagine Di Pescara Iniziamo Con la cronaca Bloccato Un 37enne Perseguita In minaccia Tre studentesse Lo stalker Non potrà avvicinarsi Alle giovani Che ha infastidito Per anni Voleva usare L'acido Contro un Presunto Avversario Poi ancora In basso I messaggi Violenti Vi sfondo Di Sardelle L'uomo ha usato Facebook Con profili diversi Per raggiungere Le vittime Che lo hanno Denunciato Assi attrezzato Automobilisti Preoccupati Cadono calcinacci Paura Sulla rampa Colpito Il parabrezza Di un furgone Scatta l'allarme Intervento Diana Seppolstrada Nessun problema Di stabilità Ma è chiaro Che Oramai Con questi Episodi La mente Non può che andare Alla tragedia Del ponte Morandi Di Genova Ancora Malattie rare Nasce In ospedale Il centro Di coordinamento Appello Della madre Della bimba Affetta Da sindrome Genetica Raccolto Dal primario Di pediatria In tutto Il mondo Solo 12 Casi Avanti Ancora Siamo A pagina 18 Il futuro Di architettura Nelle nuove Specialità Il direttore Fusero Pensa Pensa a nuovi profili Per la ripresa Dell'occupazione Competenze sul terreno A rischio E rigenerazione Delle strutture Presenti Poi ancora In taglio medio Il giorno Del test Le ambizioni Dei candidati In 90 La prova C'è chi pensa Allo studio privato Chi a fare L'imprenditore O una carriera All'estero In basso Le parole Del sindaco Alessandrini Non ci sono Scuole a rischio Alessandrini Visita gli istituti E tranquillizza Genitori e personale Tutti gli edifici Hanno L'idoneità Statica Dal proposito Noi abbiamo Ascoltato L'assessore Comunale Giacomo Cuzzi Proprio Relativamente All'idoneità Dei plessi Scolastici Di competenza Comunale Assessore Tutto pronto Per l'inizio Del nuovo Anno Scolastico Nei giorni scorsi Si è parlato Del controllo Sulla stabilità Sismica Di alcuni edifici Scolastici C'è stata anche Una polemica Con alcuni esponenti Del centro-destra Qual è la situazione Possono stare tranquilli I genitori I ragazzi Pescara sta molto meglio Di tante città Nella regione Abruzzo E a livello nazionale Esiste un problema Nazionale Cioè Pescara È zona sismica Dal 2003 Tutti gli edifici Costruiti Prima del 2003 Devono essere adeguati Sismicamente Noi stiamo meglio Perché abbiamo fatto I compiti a casa Cosa che non era Stato fatto prima E ci sorprendono Le denunce Di coloro i quali Hanno avuto Nei cinque anni Precedenti Responsabilità Di governo Senza nulla fare Per la sicurezza Delle scuole Noi abbiamo compiuto Tutti gli studi Di vulnerabilità Sismica Li abbiamo finanziati Per un importo Di un milione Di euro E sono in corso E già in parte Definiti Quattro milioni Di euro Di interventi Per la sicurezza Dei nostri edifici scolastici Sulle quattro scuole In questione Abbiamo partecipato A un bando Della regione Abruzzo Che deve essere finanziato Dal ministero Per chiedere Sei milioni e mezzo Di euro Sempre per gli adeguamenti Sismici Di strutture Che però Sono collaudate Dal punto di vista Statico E sono idonee Staticamente E' un problema Che riguarda Tutta Tutto il patrimonio Scolastico Ma che noi stiamo Affrontando Dopo vent'anni Di buio Quindi non ci sono Criticità Tutti gli edifici Sono pronti Ad ospitare I ragazzi Nelle rispettive scuole Ma stiamo facendo Un grande lavoro L'abbiamo fatto in estate Con le risorse Proprie del comune E' certo che Per gli adeguamenti Sismici Bisogna trovare Sempre più La rispondenza Di fondi statali Per poter provvedere All'adeguamento Del patrimonio Dal punto di vista Sismico Cosa che stiamo facendo Che abbiamo fatto In passato Su diversi istituti E che continueremo A fare Pagina 19 Del centro Il bar del tribunale Cambia gestione Il comune Ha emesso L'ordinanza Di sgombero Dei locali Teodoro Vinto un regolare bando Lo sfogo Della ex titolare Andiamo avanti Siamo alle pagine Di Montesilvano Polemica Sul degrado In centro città Il comune Risponde I commercianti Accuse Infondate Il vice sindaco Spiega Gli interventi Seguiti Invita al dialogo Agliano Ha già pronto Un progetto Per riqualificare Il corso Poi ancora Sempre a Montesilvano Dario Il senza tetto È tornato Alla stazione A chiedere L'elemosina L'uomo si era licenziato E non trova Lavoro L'azienda speciale È pronta ad aiutarlo Ma non è più Venuto Avanti ancora Siamo a Francavilla Al mare Nuovi parcheggi E riqualificazione Nel distretto Asle Il comune Stanze A 50 mila euro Via i lavori Entro due mesi Le parole del sindaco Luciani Così ripristiniamo Ordine E decoro E a Caramanico La vicenda Del anziano Scomparso Nella valle Dell'Orfento Aiutateci A ritrovare Nostro padre La figlia del pensionato Scomparso lunedì pomeriggio A Caramanico Lancia un appello Si mobilitano Anche i volontari E qui Alcuni momenti Di Appunto Questo tentativo Di ritrovamento In questa piana E poi sul corso Dell'Orfento Questa è la foto Dell'anziano Smarrito Carlo Rodrigo Fattiboni Avanti ancora Siamo alle pagine Di Chieti Verso le regionali Di primio Candidato presidente O niente Il sindaco esce Allo scoperto E tira le orecchie A Forza Italia Non è il momento Di fare gli indiani Bisogna decidere La lettera Alla regione Il primo cittadino Chiede di sapere La data Entro cui deve dimettersi Nel caso volesse Presentarsi Agli elettori E poi Sempre a Chieti San Giustino Scavi finiti Uno verrà richiuso La pavimentazione È risistemata Davanti al tribunale Di felice Valorizzeremo Gli ambienti I pogei Poi in basso Eventi scalini Il 15 torna La notte bianca L'amministrazione Presenta il programma Delle iniziative Per cui ha stanziato Solo 5 mila euro E a Lanciano Diocleziano La devastazione È servita Il parco In gestione Alla proloco Distrutto Dall'ultimo Nubifragio È costato 2,5 milioni Ma i fondi Per ripararlo Non ci sono In taglio medio Crollo a Genova La ferita Torna a Trieste La lancianese Rita Giancristofalo Lascia l'ospedale Cattinara Pupillo Rita sta meglio E cammina Così rassicura Il sindaco Di Lanciano E poi In basso Per questa curiosa Notizia Smarisce la fede Ce l'aveva Nello stomaco L'anello recuperato Con una pinza Dai gastrointestini Interologi Dell'ospedale Renzetti Avanti Siamo a Pretoro Sciopero Alla Lazzaroni Operai occupano La strada Proseguono le manifestazioni Davanti ai cancelli Dell'industria Dolciaria Oggi l'incontro Con il vicepresidente Della regione Lolli I sindacati E la proprietà Pagine di Teramo Lotta All'inquinamento Del mare Liquami Nel Tordino Da case e aziende Sanzionate dalla guardia costiera Due famiglie E un'autocarrozzeria Di Castellalto Multe Da 6.000 A 60.000 Euro Nel fiume Finivano sia Reflui Fognari Sia industriali Trovati scarichi Non autorizzati Anche Sulla Costa Poi ancora Sempre a Teramo O più precisamente A Torricella Scuolabus A fuoco Con i bambini La procura Non trova colpevoli Indagini E consulenza Non hanno fatto Emergere responsabilità Chiesta Chiesta L'archiviazione Nell'inchiesta Erano coinvolti I due dipendenti comunali Responsabili Della manutenzione Del mezzo E poi ancora A Silvi Strisce pedonali Tagliate Per allargare Il posteggio Disabili L'associazione Carrozzine Determinate Dice Così si viola Il codice Della strada E si danneggiano Tutti i cittadini Siamo offesi Ci sentiamo Presi in giro Il comune Andrebbe Commissariato Ecco qui Queste foto Che testimoniano Il taglio Delle strisce Pedonali Avanti ancora Siamo alle pagine Dell'Aquila Master Atletica 2022 Mondiali All'Aquila Una città In corsa Delegazione A Malaga Domani L'ufficialità Sulla candidatura Ospitalità Al progetto Case E impianti In regola Punta Su questi Fattori Il comitato Organizzatore Poi ancora Nuove corse Ama Per le sedi Del Cotugno Il comune Rassicura Via Acqua Santa Sarà riaperta Lunedì E a Pettino I restauri Al ventre Nel 2020 Poi ancora Avezzano A piazza Risorgimento La Fontana Cambia volto Al centro In migliaia Mirano Acqua E luci Il sindaco De Angelis La mia prima opera Per amministrare Occorre Avere il coraggio Di rischiare Lavori realizzati Con il contributo Della fondazione Caris Spacca l'evento La parlamentare Carfagna Ecco qui Le tante persone Che sono accorse A piazza Risorgimento Per l'inaugurazione Della nuova fontana E qui la parlamentare Carfagna Con il sindaco De Angelis Andiamo a chiudere Questa prima parte Di mattino 6 Con quest'ultima pagina L'Aquila Riabbraccia Il cuore Degli alpini Tre giorni Per commemorare Il battaglione E sfilata Nel centro Che rinasce Coinvolti Gli studenti Delle superiori Ci fermiamo Andiamo in pubblicità Prima però Le previsioni Del tempo Poi ci ritroviamo Con il messaggero La città E altri servizi Da vedere Due di sport Di nuovo buongiorno Seconda parte Di mattino 6 E siamo subito Sul messaggero Subito La politica L'Abruzzo Alle urne Movimento 5 Stelle Sbloccate le regionarie Oggi I candidati Consultazioni Sulla piattaforma Russo Nonostante gli hacker Intanto il consigliere Ragneri Presenta il piano Economico B Planet All'Aurum Si All'Aurum Di Pescara Si riuniscono I movimenti Civici Che fanno capo All'iniziativa Liberal Di Daniele Toto A centro pagina Zess Dal Molise Uno sgambetto politico Ora una naturale Alleanza Con Ancona Nel articolo Scritto Dal parlamentare Del PD Camillo D'Alessandro Avanti ancora Pagine di Pescara Problemi Statici Lavori urgenti Al classico Criticità Emerse Durante gli interventi Di riparazione Dei danni Del maltempo Del 2017 Una nota Della preside Informa le famiglie Avvio di anno In salita Pronto un piano Per il trasferimento Provvisorio Di 20 classi liceali Alla media Di Marzio Michetti Siamo uno stabile Siamo uno stabile degli anni 30 In passato Mancata la manutenzione Straordinaria Dice la professoressa Donatella D'Amico Poi ancora In basso La prova sul Velluto Dei 90 aspiranti Architetti Con 220 Posti Disponibili I candidati Basterà raggiungere La soglia Minima Di 20 Punti Poi ancora Cede L'intonaco Viadotto Sotto controllo Colpita Una autovettura Lungo lo svincolo Verso la tangenziale Per Montesilvano Immediate le verifiche Di Anals Polstrada Danni al parabrezza E tanta paura Ma il sopralluogo Esclude problemi strutturali Il distacco causato Dalle vibrazioni C'è la testimonianza Della vittima Dopo il botto Ho pensato Soltanto Ad allontanarmi Dalla sopraelevata Ancora Siamo a Caramari Caramanico Ricerche anche Nel fiume Introvabile L'anziano turista Battute Senza esito Dopo tre giorni Da ieri In azione Anche squadre fluviali Schieramento di forze imponente A Caramanico E l'angoscia Della moglie E poi In taglio medio Mai da soli Ecco il decalogo Per l'escursione In sicurezza Per le guide Di mai ambiente La prima insidia E la scarsa preparazione Dei visitatori Le regole basilari Sono evidenziate Nel sito del parco Ma spesso prevale Il passaparola Sui social Pagine Dell'Aquila Belvedere Sotto al ponte Belvedere Sotto al ponte Un parcheggio Multipiano L'Ater Ipotizza La riconversione Dell'immobile Di proprietà Alcivico 29 I residenti Non sono tutti Contrari Alla demolizione Paventata L'Iris L'idea è stata lanciata Dal neo Amministratore Dell'azienda Gianvito Lepore Poi ancora Con Questo Davvero Impavido Pensionato Di cui Leggiamo la storia Mimì Alessandri In parete A 86 anni Il mitico Alpinista È tornato Qualche giorno fa Sulle vie Più difficili Del Gran Sasso Capocordata Leandro Giannangeli Vincenzo Brancadoro Presidente del CAI Ho deciso Che dobbiamo onorarlo Festa Evento Sabato 22 Settembre Poi ancora In Marsica Sedicenne Stuprata Caccia Al terzo Uomo In tre Avevano Attirato In un vicolo La ragazzina Mentre due di loro Fungevano da palo Il terzo La violentata I marocchini Indagati Di 26 24 anni Negano lo stupro E addirittura sostengono Che la studentessa Fosse Consenziente Avanti Siamo alle Pagine di Chieti San Giustino L'antica Cisterna Sarà visitabile Ecco il Progetto L'assessore Vogliamo Aprire al pubblico I tesori Sotterranei E rilanciare Il turismo Un ascensore Permetterà di scendere Fino a una Profondità Di 10 metri Per ora L'area Verrà ricoperta Resta l'incognita Dei finanziamenti Dopo lo stop Del governo Di spalla Leggiamo Notte bianca Danza e cover Tornano Negli eventi Scalini In basso Ancora le sollecitazioni Del sindaco Di Chieti Umberto Di Primio Che dice Mi candido alla regione Ma solo da presidente Dal sindaco Un appello A Forza Italia Deve decidere I sondaggi Sono con me E a Lanciano Domani La prima Del mercato Scoperto Vendita Ortofrutticola A chilometro zero In via Monte Maiella In attesa che si sblocchi L'avvertenza Per fare un altro bando Fissato al 18 dicembre Il via Al processo Intentato dal gestore Della struttura coperta Di piazza Garibaldi Contro il comune Poi ancora Anziano Vedovo Perde la fede Si dispera Il medico La trova conficcata Nello stomaco Avanti con le pagine Di Teramo Ecco qui Ancora sicurezza Sulle infrastrutture Viarie In evidenza Strade e ponti La provincia Chiede 1,7 miliardi A Conte Dossier Al governo Il presidente Della provincia Di Sabatino Dice Vanno rimosse Le condizioni di rischio Per i viadotti Non c'è il pericolo Di crolli Ma devono essere Adeguati sismicamente Via Milli Lamenta la totale Mancanza di finanziamenti Per poter intervenire Autonomamente Sulle infrastrutture Vediamo A tal proposito Il servizio Alla richiesta Avanzata dal governo Sulla necessità Di un monitoraggio Complessivo Dello stato Di conservazione E manutenzione Delle opere Di competenza La provincia Di Teramo Risponde Con una lunga e dettagliata Relazione tecnica Che fissa gli importi Necessari A rimuovere le condizioni Di rischio Delle proprie Infrastrutture 211 strade provinciali 274 ponti Attraversamenti pedonali E autoparco La cifra che ne viene fuori È astronomica 1 miliardo 700 milioni di euro Impensabile poterla ottenere E per questo Il presidente della provincia Renzo Di Sabatino Pone come priorità I ponti provinciali Che pur essendo sicuri Necessitano di un costo Immediato Di manutenzione Pari a circa 113 milioni di euro Allo Stato abbiamo presentato Un report complessivo Che riguarda Sia le strade Che per i ponti Siccome oggi Il tema è dei ponti Tengo a chiarire Che la provincia In questi quattro anni Come vedrete Anche dalla scheda Ha aggiustato Sistemato E consolidato Molti ponti Compreso Quello di Garrufo Su cui Impropriamente C'è stata Un'indicazione Di un indice Pare a zero Quando l'indice Dopo i lavori Che abbiamo fatto È stato innalzato Notevolmente E quindi È un ponte Che sicuramente Non è A rischio E oltre questo Abbiamo Da tempo Indicato Sia al ministero Che alla regione Il fabbisogno Della provincia E per le strade E per i ponti Per i ponti Assomma A oltre 100 milioni Se non ricordo male 113 milioni Di euro Di Sabatino Ricorda Che comunque La provincia di Teramo Non è mai stata Con le mani in mano E in questi ultimi 4 anni Ha appaltato opere Per 120 milioni Di euro In favore di ponti Strade Scuole E lo ha fatto Sottolinea ancora Il presidente Con una certa amarezza In totale solitudine Questo è il paese In cui si aggiustano Le carte Questo è il paese In cui troppe persone Soprattutto quando hanno Dei ruoli politici E istituzionali Per dare un segno Della propria esistenza Devono Inveire contro qualcosa Contro qualcuno A differenza di altri Come non io Ma questa provincia In 4 anni Ha fatto 120 milioni Di contratti 120 milioni Di opere Che sono state realizzate Che sono in corse E che saranno Realizzate Nel prossimo futuro Grazie al lavoro Di tutti quanti Di chi Non sta lì A tagliare i nastri A fare inaugurazioni Ma cerca di lavorare Con le somme A disposizione E quando non ce l'ha Se le va Se le va a trovare E ancora Per spazzare via Ogni polemica Fatta recentemente Dal consigliere regionale Leandro Bracco Il presidente Di Sabatino Ha annunciato Che prima del termine Di fine ottobre Del suo mandato Saranno consegnati I lavori Per la costruzione Del nuovo ponte Di Castelnuovo Sempre a Teramo Il comune Vende immobili Per ricoprire Le buche Un centro Per i giovani Invece Nella ex scuola Febbo Sempre nel comune Di Teramo Nella frazione Di San Nicolò Avanti Siamo A Roseto Quella strada È pericolosa E va chiusa La notizia Del palo Al centro Della carreggiata In via Defensa A Cologna Subito Virale Sui social E i commenti Sono al vetriolo Eravamo al corrente Della situazione Dell'opera Bike to Cost Dice Paolo Donofio Referente Vittime Della strada D'Abruzzo Se qualcuno Pensa che la segnaletica Possa esimere Il comune Da responsabilità In caso di un sinistro Si sbaglia Di grosso E invece Giulianova Ex Saddam L'incontro pubblico Si fa Lasciamo Il messaggero Abruzzo E andiamo Sulla città Ripartiamo Da pagina 5 Che tratta L'argomento Del servizio Che vi abbiamo Appena proposto La provincia Servono 1,7 miliardi Di euro 485 Trapponti Viadotti Strade Gallerie Davvero sicuri Solo Attraverso Una spesa Mostruosa Abbiamo ascoltato Anche le parole Del presidente Della provincia Renzo Di Sabatino Bonificata La scuola Febbo Di San Nicolò Il comune Pensa alle verifiche Sismiche E alla ristrutturazione Ma i residenti Decideranno Che farne I lavori di sistemazione Da 550 mila euro Dovevano partire Entro il 2013 Ora si Proverà A recuperarli Pagina 7 Scuole Dall'emergenza Alla programmazione La civica Teramo 3.0 Promette massimo impegno Per finanziare i lavori Spulciando tra Chioto e Juncker I fondi ci sono Per Teramo Basta solo Saperli trovare Tra i bandi nazionali Ed europei Cui non si è mai Guardato prima Pagina 8 Siamo a Castellalto Il sindaco interrogato Sul balletto Dell'agibilità Aprì il municipio Nonostante l'inagibilità Ma i suoi tecnici Contestavano La relazione Di protezione Civile La tesi difensiva E la seguente Di Marco Fece bene A tenere aperti Gli uffici La successiva Relazione di protezione Civile Confermò L'agibilità Pagina 9 Sciopero Contro la chiusura Dell'iper Simpli Domani presidio Dei lavoratori All'ingresso Dell'ipermercato La proprietà Offre Ricollocamenti Fuori Regione Pagina 11 Le notizie Dalla provincia Ricostruzione Il comune Minaccia Di commissariare A nove anni Di distanza Dal terremoto Dell'Aquila Nel centro Di Castelli Non è partito Nemmeno Un cantiere Sei mesi Di attesa Nonostante il comune Abbia rimosso Da marzo Ogni ostacolo Burocratico I consorsi Degli aggregati Sono ancora Fermi E qui vediamo Il sindaco Di Castelli Rinaldo Secat Per le vie Del centro Di Castelli Pagina 12 In Val Vibrata Santomero I sindaci Vogliono risposte Sull'ospedale Incontro con il direttore Sanitario E accesso Agli atti Inviato Alla ASL Si confermano Le gravi carenze E la scarsa Attenzione Di ASL E Regione Per il nostro Territorio Dice Umberto De Annuntis Avanti ancora Siamo a pagina 13 Ex Sadam Mastro Mauro Dà il contentino Ai comitati Il sindaco Accetta la richiesta Di assemblea pubblica Ma solo Per illustrare Un progetto Già deciso Si tratta Al più Di valutare Ed eventualmente Approvare Una variante Migliorativa Che riguarda I lotti Ancora da realizzare Del piano Di recupero Non si tratta Di discutere Decidere O scegliere Nulla Sul futuro Di un pezzo Della Città Avanti Siamo a pagina 14 A Roseto In particolare Beccati furbetti Degli scarichi La capitaneria Di Porto Scopre Allacci abusivi Anche in uno Stabilimento Di Roseto E poi In basso A Silvi Il campo Conteso Dalle scuole calcio Finisce in consiglio Comunale Manifestazione Del castrom Durante l'assise Di ieri Sancita Inoltre L'ascissione Da Pineto Per il segretario Generale Apriamo ora La pagina Dello sport In quest'ultima In quest'ultimo segmento Di mattino 6 Siamo a pagina 17 Ieri al Bonolis Si è giocata L'ultima amichevole Per il Teramo Prima dell'inizio Del campionato Tra dieci giorni Peraltro Domani Si conoscerà anche Il calendario Della serie C Ebbene Teramo senza gol Nell'ultima amichevole Con Pineto Finisce 0 a 0 Una gara prima Di grandi emozioni Domani I calendari Di serie C E ci sono state Anche le parole Del presidente Campitelli Che è tornato Sulla questione Fideiussione Bisogna dare Maggiori certezze In vista del futuro Deve cambiare qualcosa Ferretti Amadio Dispiace Ma le nostre esigenze Sono importanti Allora Andiamo ad ascoltare Il presidente Del Teramo Avvicinato Ieri Prima dell'amichevole Con il Pineto Presidente Facciamo un bilancio Di questa chiusura Del mercato Che squadra Ne è venuta fuori Sia dal punto di vista Del budget Se è stato rispettato E se è soddisfatto Dal punto di vista Dei giocatori Che sono arrivati Ma dal punto di vista Del budget Se Avessimo Potuto Dare A qualche squadra Due giocatori Noi avremmo Più che rispettato Il budget Parlo di Amadio FrT Che secondo me Potevano sicuramente Andare a giocare E non oggi Stare In tribuna Perché loro Non fanno parte Della rosa Perché sono Fuori Lista Ci è dispiaciuto Molto Perché loro Innanzitutto Non possono giocare E poi Anche per noi Perché quel piccolo budget Ci può dare La possibilità Di fare Un acquisto Che noi Pensavamo Di fare Qualche giorno fa È uscita La grana Fedegliussione Quella della Finward Che la Covisoc Prima aveva Dato l'ok Sulla stessa E poi La FIGC Ha detto invece Che non è valida La Teramo Calcio Si è messa in regola Già con i termini Della federazione Oppure lo farà breve Ma la Teramo Calcio Lo deve fare Sicuramente Per potersi Iscrivere Però Il problema N'è un altro Il problema oggi Che con queste Incertezze Non si può andare avanti Lì se ad una società Non dico il Teramo Tu dici E non sei iscritto E poi quella società Non ha la forza Di avere la fiduzione Può anche dire Io mi ritiro Oppure Fa altre scelte Ma quando una società Spende 3 milioni di euro Si impegna Fa tutto Mette in Accendi i motori E poi a una settimana O una settimana e mezza Prima che si cominci il campionato Si fa quello che hanno fatto Credo che qui Dobbiamo assolutamente noi Capire Vedere Se questo mondo È ancora fatto Per noi Sempre sulla città Teramo Basket Indicazioni positive Anche nel secondo Scrimmage Nel derby Precampionato Contro Giuliano A coach Domizioli Bisogna prestare Ancora più attenzione A livello Difensivo Ieri a margine Dell'amichevole Ha parlato anche Il direttore generale Del Pineto Gianmarino Un commento Sul calendario Comunicato Dinamato Mercoledì scorso Ebbene Con 38 gare Servirà la gestione Dice Il DG Del Pineto Non ci spaventa l'avvio Cercheremo di giocarcela Contro Chiunque I biancazzurri Di Amaolo Avranno il Francavilla La prima Poi il Matelica E la trasferta Di Forlì Andiamo sulle Prime nazionali Prima di tornare Sul centro E messaggero Per lo sport Qui siamo Sulla gazzetta Dello sport Buon viaggio Manci Italia Si riparte Con la Polonia Nations League A Bologna I campioni del 2006 Suonano la carica Lippi Bell'idea di Chiellini Chioccia Cannavaro Il Mancio Da entusiasmo Poi di spalla Futuro Inter Zang Junior Sta studiando da presidente Sul fronte Milan Pepe In porta C'è Reina In Europa E poi sotto La testata Non vale la pace Marquez Dalla mano Rossi La rifiuta E Misano Si scalda La svolta rossa Lapo annuncia Leclerc In arrivo Il Corriere Dello sport Qui si rifà L'Italia Debuttiamo Alle 20.45 Con la Polonia In Nations League Dopo le amichevoli Dell'estate Mancini CT Inizia a fare Sul serio Nella sua Bologna Grande emozione Finalmente si gioca Per vincere Scelto il 4-3 Poi sotto La testata Vale Mark Non c'è Pace Di spalla La fascia È di Davide Davide Astori Una fascia Personalizzata Nonostante le polemiche Per Commemorare Astori Tutto sport Apre con il mercato Pogba Chiama la Juve Ora sono allo United Tra qualche mese Chissà Il francese Rilancia i dubbi Sul proprio futuro A Manchester Si profila un duello A gennaio Fra i bianconeri E il Barça Di spalla Gli azzurri Ripartono Da Balotelli E Bernardeschi E poi ancora Ci siamo Leclerc La Ferrari Lo dice Lapo Su Facebook Torniamo ora Sul centro Ecco qui Serie B Con la Intervista Al difensore Del Pescara Ugo Campagnaro C'è entusiasmo Il Pescara può arrivare In alto Il 38enne difensore Ora siamo felici Di allenarci A differenza dell'anno scorso L'Argentina In Russia Abbiamo fatto una brutta figura Però Messi Resta Il migliore Andiamo ad ascoltare L'intervista Rilasciata al nostro Paolo Renzetti Proprio da Ugo Campagnaro E' arrivata la vittoria Con il Livorno La prima della stagione Grazie soprattutto A due vecchietti Del Pescara Cocco Ha segnato una doppietta E Campagnaro Che al 93esimo E' come se avesse segnato Un gol Quel salvataggio Sulla linea E' stato fondamentale Ma sono cose Che succedono Dentro la partita Però Io sono contento Per come è andata In generale Al di là Delle occasioni Singolari Però Ha fatto bene La squadra Secondo me Come gruppo Ha gestito bene Anche Il vantaggio Al di là Che hanno segnato Hanno fatto un bel gol loro Anche senza errori Da parte nostra Però Merito loro Sono riusciti a segnare Però abbiamo gestito Molto bene La partita Che l'anno scorso Magari facevamo fatica Quando eravamo In vantaggio A A riuscire A portare a casa I punti Quest'anno Dovrebbe andare meglio Siamo molto organizzati E niente Bisogna continuare così Ora stai bene Hai fatto tutta la preparazione Con i tuoi compagni Ma ti aspettavi Di giocare con il Livorno E quando hai saputo Che saresti sceso in campo Ma no Aspettarmi di giocare o meno No Sono stato disponibile Anche la prima giornata Che è quello Che devo fare io Devo essere a disposizione Dall'allenatore Poi se mi fa giocare o meno Non è importante L'importante Che si facciano i punti Come si stanno facendo Delle belle prestazioni E niente Immaginavo In settimana Magari perché mi ha provato Verso la fine Con le squadre Che più o meno Dei titolari Però non avevo la conferma Fino al mattino Quando lui dà la formazione Però Niente Ormai questa cosa qua Non è importante per me Quello che devo fare io È essere sempre disponibile E dare una mano Firmeresti per giocare 25 partite In questa stagione Se te lo chiedessero oggi Ma 25 partite Non è importante Quante Sicuramente un bel numero Per avere 38 anni Io devo dare una mano Sempre Anche quando non sono a disposizione Per giocare Però se riesco a fare 25 partite Per me sarebbe Un numero ottimo Ma qual è l'obiettivo Del pescare In questa stagione Ugo Perché siete partiti Affari spenti Si parla di salvezza Però questa squadra È una squadra di valore Che ha dei valori tecnici Importanti Sì ma Al di là di quello Quello che dichiari Non è che se tu dici Giochi per la salvezza Dopo andrà a finire così Tu fai il massimo Ogni partita Adesso abbiamo fatto Un pareggio E una vittoria E niente Dobbiamo giocare A vincere tutte le partite Poi quello che si dice Non è che Quello ti limita A fare più punti Nessuno te lo vieta Se dopo tu vai e vinci Giochi per altri obiettivi Magari Si cerca Di tenere i piedi per terra E non fare Tante aspettative Però quello che dobbiamo fare noi È cercare di vincere Tutte le partite L'ultima Ugo Sarà questo L'ultimo campionato Per te da giocatore? Non lo so Dipende come sono messo fisicamente Se io vedo Che mi posso gestire E sono disponibili Tante partite Non vedo perché non continuare Però come hai detto Questo 7 settembre Sarà molto importante Per il destino Della Serie B Campionato a 19 O a 22 club Oggi la sentenza Il collegio di garanzia decide Sperano Catania Novara Provercelli Siena Di stato Le ultime due pagine Che andiamo a vedere Prima di chiudere Intanto sul fronte Dei dilettanti L'Aquila Oggi scopre il suo cammino Rosso-blu Grandi favoriti Nel gironea I tifosi attaccano Ortolano E Fabricini Rispettivamente Presidente del Comitato Abruzzo E commissario Della Feder Calcio Dopo il lungo Tiremo l'estivo La squadra allenata La Cappellacci Si prepara per la nuova avventura Domani In edicola L'inserto del centro Con le pagine Dedicate ai campionati Di prima e seconda categoria I calendari Oggi Appunto A Corfinio E poi ancora Si stanno Per aprire I giochi Gli assoluti Di Atletica Leggera Allo stadio Atletico Cornacchia Di Pescara Tamberi Au E Palmisano Parata di stelle A Pescara La prima gara In mattinata Allo stadio Atletico Cornacchia Nel pomeriggio La marcia sul lungomare Tra le abruzzesi Sabatini E Beneduce Vanno a caccia Di medaglie La Kermesse Si svolgerà Fino a domenica Nell'impianto pescarese Domani in città È previsto anche Un consiglio federale Noi chiudiamo qui Questa edizione Odierna di mattino 6 Vi ricordo gli appuntamenti Con il nostro Tg Alle ore 14 Alle 19 E alle ore 23 Io ringrazio in regia Maurizio D'Agui E ringrazio voi Per la cortese attenzione Buona giornata A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti.